Amici 22, Ludovica alza la voce, su circo, tweet contro il talent. La ballerina è stata eliminata nella puntata e non da ieri, ma già dopo la registrazione si è attivata sui social. Ludovica Grimaldi dopo l'eliminazione da Amici 22 è tornata sui social, e così facendo ha attirato gli occhi dei più curiosi. Se su Instagram è arrivato ben presto il suo messaggio d'addio al talent show. Su Twitter spulciando il suo profilo è emerso un like che farà parecchio discutere. Il profilo sembrerebbe appartenere proprio a Ludovica, i fan ne sono certi. Invece il like in questione è arrivato già qualche giorno fa. Dopo la registrazione della puntata. L'eliminazione di Ludovica c'è stata ieri. Ma in realtà sono giorni che lei non è più nel programma dato che le puntate sono registrate. In ogni caso, ieri il pubblico ha assistito all'eliminazione della ballerina. Ludovica è risultata ultima nella classifica complessiva delle gare di ballo. Alessandra Celentano aveva chiesto alla produzione di eliminare l'ultimo in classifica. La produzione non ha accettato la proposta e ha invitato i professori a prendere la decisione per i propri allievi. Immanuel lo ha eliminato Ludovica ad Amici 22, ma non per la classifica. Il professore ha spiegato di aver notato dei passi indietro nella sua allieva e di essere giunto alla conclusione che forse Amici non è il posto giusto per lei. Ludovica dopo Amici 22 è tornata ben presto su Instagram. Lo ha fatto con un messaggio ricco di emozione per l'esperienza che ha vissuto e anche tanta gratitudine verso il programma, verso Immanuel e verso i suoi compagni d'avventura. Per lei è stato un sogno vivere di danza giorno e notte. Ancora oggi fa fatica a credere di aver vissuto in quella scuola, anche se per poco tempo. Quindi è passata ai ringraziamenti a tutto lo staff di Amici, dai professori ai professionisti fino agli autori. Alla redazione e alla produzione. Ha ringraziato in particolare Immanuel per aver creduto in lei e tutti i suoi compagni. Non ha rivolto un ringraziamento specifico e speciale a Maria De Filippi, caso strano. O forse no? Magari lei è solo sfuggito, eppure oggi sta circolando sui social il like di Ludovica al tweet in cui Amici viene definito un circo. Quando nel Daitime si è parlato di eliminare il banco del pubblico, qualcuno su Twitter ha scritto, giustamente il banco del pubblico per Asia andava bene. Ora che servirebbe per Ludovica guarda caso arriva la proposta di toglierlo. Questo è un circo. Ludovica ha messo mi piace a questo tweet contro Amici, evidentemente è d'accordo con quanto c'è scritto. Anche per lei insomma la questione puzza un po' di bruciato, ma va detto che solo Asia ha approfittato del banco del pubblico. Forse la produzione ha valutato come non riuscito l'esperimento del banco del pubblico. Di sicuro, insomma, non c'è niente di personale contro Ludovica Grimaldi da parte della produzione. Sizzes uguale, max width 382px, 100w, 382pxsrc uguale data, image svg più xml, per 103c svg per 120xml ns uguale per 122http, due punti, slash slash, www. www.w3.org barra 2000 barra svg per 122 diviso per 20v box uguale per 120 diviso per 200 diviso per 20.382 diviso per 20.450 diviso per 22 diviso per 3 per 103c svg per 103 e data data.